Il suono che stiamo sentendo nasce da una serie di registrazioni che ho fatto all'interno di questa stanza e più precisamente ho cercato di fare un calco sonoro di alcune statue della gipsoteca Amalfatti. In pratica ho inserito un microfono all'interno della statua, perché essendo dei gessi sono cavi nell'interno, ho inserito un microfono all'interno e ho registrato la risonanza di questo interno della statua in rapporto con l'esterno, cioè con la stanza in cui si trovano. In pratica ho trovato la frequenza di risonanza, il rapporto di risonanza tra i due negativi della statua. Quindi in qualche modo si può dire che ho fatto un calco acustico di queste statue. L'idea è quella di utilizzare proprio il mezzo, il medium utilizzato per registrare, per trovare questi suoni e utilizzarlo anche come fonte sonora. Quindi ho invertito il processo e questi quattro microfoni che sono stati utilizzati per registrare le statue sono stati modificati e utilizzati ora per diffondere i suoni. Quindi i suoni escono esattamente da questi microfoni.